La Camera bassa del Parlamento polacco ha approvato gli emendamenti proposti dal Presidente della Repubblica Andrei Duda alla legge sulle influenze russe entrata in vigore a fine maggio. Il testo firmato dal Capo dello Stato istituisce una commissione di inchiesta che indaga sulle persone che hanno agito nell'interesse del Cremilino negli ultimi 15 anni. Un provvedimento che ha sollevato preoccupazioni sulla possibile interdizione dalle cariche pubbliche disposta nei confronti dei leader dell'opposizione in vista delle prossime elezioni politiche d'autunno. Le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti hanno spinto il Presidente polacco a presentare degli emendamenti che allentano i poteri della commissione di inchiesta e che permettono a chi viene incriminato di potersi appellare a un tribunale generale. Ma per l'opposizione nella sostanza cambia poco. La commissione resterà uno strumento di pressione politica. La commissione resterà uno strumento di pressione politica.